Nonostante la determinazione del Presidente Sergio Mattarella, con il passare delle ore sembra allontanarsi la soluzione della crisi di governo a causa della difficile intesa tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. L'instabilità politica determina ricadute negative anche sulle tante vertenze aperte in Regione che necessitano di una interlocuzione nazionale di fatto oggi bloccata. I sindacati chiedono una soluzione rapida per risolvere le emergenze occupazionali che assillano migliaia di famiglie molisane. In particolare il coordinatore dell'Unione Sindacale di Base, Sergio Calce, punta il dito anche contro l'immobilismo della Regione. Assolutamente, ci sono in piedi dei tavoli riguardanti moltissimi lavoratori, maestranze tra mobilità, cassa integrazione che riguardano soprattutto gambe e ITR. Questo sarà bloccato e ancora una volta chi ci va sotto a questi temi sono le persone diciamo più deboli, i lavoratori, i cittadini. È una grave crisi, non si è riuscito già a fare le determine per questi temi, vedremo che succede nei prossimi giorni augurandoci che al più presto si trovi una soluzione per dare respiro a tantissime famiglie. A rischio anche il famoso contratto istituzionale di sviluppo per questa Regione? Assolutamente sì, l'8 maggio è stato firmato il decreto dal Presidente Conte ma in questi giorni si doveva definire il tutto e purtroppo è bloccato anche questo. Anche se qui bisogna fare una valutazione molto contenuta, non si possono dare 120 milioni di euro per i trattori pensando che la Regione Molise in questo discorso possa creare praticamente uno sviluppo e un turismo in questa Regione. Questo non va bene, i fondi devono essere messi a disposizione peraltro per creare filiere, lavoro, sviluppo. Non c'è una programmazione, non c'è un piano di sviluppo, la politica non sa programmare, stanno solo seduti lì, presumo, a fare gli impiegati perché ancora una volta anche su questo campo avevano visto male. Ma ripeto, purtroppo non c'è programmazione, pensano solo esclusivamente a becche personali, dove mettere le questioni individuali per cercare sempre di stare in campagna elettorale e non guardano allo lavoro, allo sviluppo, ai temi di questa splendida Regione. Vediamo in questi giorni si stanno accanendo spaccature enormi sulla maggioranza per quanto riguarda le provinciali, se considerate che da tempo le province dovevano essere chiuse e non pensano praticamente alla nostra Regione, ai lavoratori, alle famiglie e a tutto quello che può essere da qui a tanto tempo per creare lavoro e opportunità per i giovani che vanno via. La Regione però nell'ultimo anno ha puntato molto sullo sviluppo, sul settore del turismo per creare lavoro. Ha cercato di provare con tante pagine che sono, che vanno in giro, si fanno le battute mare e monti pensando che chi viene qui fa mare e montagna. Non c'è una linea programmatica, non c'è niente, ci sono solo carte che camminano ma di concreto per cercare di individuare un settore dove praticamente si può fare turismo non c'è. Le faccio un esempio banale, c'è un posto all'Altiglia che non c'è una guida. La Regione perché non interviene? Ci sono posti bellissimi che praticamente vengono isolati, non c'è nulla su queste pagine, è una scatola vuota ancora una volta anche sul tema del turismo.